cari amici di visione tv benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento è tornato a trovarci franco fracassi per presentare il suo ultimo libro ecco praticamente franco viaggia ad una media di un libro al mese non facciamo in tempo a proporvi il suo penultimo lavoro che già è pronto l'ultimo ciao franco ciao ciao a tutti ecco non è che mi chiami stasera per dire guarda che ne è pronto un altro ce li dai dieci giorni di tempo lo starai preparato ti servirà adesso un po per preparare il prossimo è in preparazione bene facciamo vedere intanto l'ultimo eccolo qui hitler 1945 la fuga i segreti e le bugie ecco una figura sempre attuale quella di hitler citata tra l'altro da gambe l'altro giorno in senato che ha paragonato il governo draghi ecco le misure del governo draghi e quelle prese da hitler proprio per difendere la purezza della razza dalle malattie che al tempo ossessionavano i tedeschi qual è la tesi di fondo di questo tuo ultimo lavoro franco è un è un'inchiesta sulla morte di adolf hitler perché importante morte di adolf hitler perché ha sancito la fine della seconda guerra mondiale ha ci ha fatto voltare pagina allora ufficialmente hitler è morto il 30 aprile 1945 suicida nel suo bunker sono entrato in possesso di un paio di migliaia di pagine dell'allora kgb dei servizi segreti sovietici che si chiamava nkwd dove c'era l'autopsia dove c'era un sacco di cose insomma tutto quello tutte le carte che i sovietici avevano raccolto che riguardavano la morte di hitler e da quelle carte emerge chiaramente perché lo dicono che il cadavere trovato non era quello di hitler e hitler non è morto nel suo bunker al che sono andato a procurarmi documenti questa volta tutti ufficiali perché sono desecretati da prodotti all fbi dalla scia anzi a quella che sarebbe poi diventata la scia e dell'mis x servizi segreti britannici dal 45 in poi e sono migliaia di pagine e queste migliaia di pagine raccontano della caccia che questi servizi segreti davano adolf hitler è un po bizzarro dare la caccia a qualcuno che si ritiene anzi si è convinti che si sia suicidato ma non solo danno la caccia così genericamente ma lo trovano cioè seguono tutte quante le sue tracce tra le sottistimonianze e quant'altro mandano sguinzagliano centinaia di agenti in giro per il mondo e alla fine lo trovano pure a quel punto mi sono andato a verificare la verità storica cioè quello che dice il quello che diciamo le prove ho fatto un faccio un fact checking come si usa dire oggi delle di quello che c'è scritto sui libri di storia nei libri di scuola cioè le prove ufficiali e mi sono reso conto che mai fatto storico dell'era contemporanea sia stato raccontato e validato sulla base del nulla perché non esistono prove fattuali non c'è nessuna prova concreta semplicemente perché chi ha raccontato questa cosa intanto non è sovietico ma è britannico ed è arrivato lì oltre un mese dopo quindi ovviamente non ha trovato assolutamente nulla e esistono solo tre prove testimoniali di cui due indirette perché erano prigionieri in mano ai sovietici che hanno raccontato i due in maniera indiretta quindi non si sa nemmeno se hanno realmente raccontato quelle cose oppure se sono stati torturati per farle estorcere quello che loro hanno detto hanno raccontato delle cose peraltro peraltro dando tre versioni diverse della morte di hitler quindi non ne ho manco concordi queste prove e quando queste persone si sono sono state liberate anni dopo separatamente hanno tutti e tre smentito la loro versione dei fatti quindi mi sembra che ci trovo allucinante che la storia ufficiale continua a raccontare una versione che non sta in piedi non sta in piedi non dal punto di vista storico non sta in piedi dal punto di vista giornalistico dal punto di vista del buonsenso dal punto di vista di qualsiasi cosa e qual è la verità franco sono dove è morto per mano di chi adolf hitler allora dove sia morte per mano di chi non lo so perché le le tracce serie cioè quelle riscontrabili con attraverso riscontri incrociati attraverso testimonianze e molte altre cose si fermano nel 1947 quello che è accaduto dopo non ne ho la più pallida idea o quantomeno ci sono tante tante idee differenti ma non magari sono tutte false o magari una di queste vere non so quale sia quindi non secondo me non ha importanza la cosa importante che a non è morto quindi è morto nel 30 aprile 45 quindi ancora una volta c'è stato raccontato un fatto storico che non è secondario come tu hai ricordato adolf hitler è il cattivo per eccellenza cioè il male assoluto allora colui che in tuttora nel nostro immaginario rappresenta il male assoluto e come sia morto e quando sia morto fa una bella differenza e il fatto che tutto questo sia basato su una menzogna eh quello che noi sappiamo non mi sembra una cosa irrilevante perché a quel punto se ci hanno raccontato una balla in questo caso ce la posso aver raccontata in tantissimi altri casi e poi è importante più che la fuga l'organizzazione della fuga e questo sì che è che è importante sapere come è stata organizzata la fuga eh senti eh franco chi aveva interesse a mentire e a coprire la vera storia di adolf hitler tutti allora eh hitler ha eh anzi eh Churchill che è il primo ministro britannico all'epoca che era una persona diciamo eh sicuramente molto intelligente sicuramente che conosceva il mondo sapeva come andavano le cose come andavano gestite lui nei suoi diari afferma una cosa molto semplice la guerra non è finita finché noi non abbiamo la certezza che hitler sia morto è un po' come la caccia la guerra ad al qaeda non è finita finché non è morto bin laden la guerra all'isis non è finita finché non è morto al bagdadi è lo stesso concetto no allora ehm lui per questo motivo invia un suo eh agente eh dei servizi segreti britannici anzi da ordine a un a un funzionario dei servizi segreti britannici che questi i casi della vita si si chiama Jan Fleming che è colui che ha inventato la saga di James Bond agente 007 che era un appunto un funzionario dei servizi segreti e Fleming dà incarico a uno storico uno storico di Oxford che va a a verificare le cose ma il compito non era eh scopri come scopri che cosa è successo no il compito era noi dobbiamo eh avere le prove che Hitler sia morto quindi diciamo lui è partito dalla fine quindi come faccio a dimostrare che Hitler è morto e mano a mano racconta e va indietro tutto questo avviene eh in un momento in cui il i sovietici che sono appunto gli unici che secondo me sono titolati a dire qualche cosa perché sono quelli che sono entrati a Berlino e sono entrati nel bunker ehm per ehm per bocca del suo comandante in capo Zhukov che era il comandante delle truppe sovie dell'armata rossa entrata a Berlino nella in una conferenza stampa Zhukov dice Hitler non è morto quello che abbiamo trovato non è Hitler quindi già lo dice ufficialmente in più Stalin lo va a dire alla conferenza di Potsdam quella che si svolge subito dopo la seconda guerra mondiale che è la conferenza che sancisce sostanzialmente la guerra fredda allora eh i sovietici sono chiari nonostante questo Churchill invece ha bisogno di questa cosa ma una volta che Hitler è stato dichiarato morto ufficialmente anche dai britannici e tutti gli vanno appresso perché qual era la situazione? La situazione era di un mondo distrutto o quantomeno specialmente l'Europa ma anche molte parti del resto del mondo di un'Europa da ricostruire un'Unione Sovietica da ricostruire una Francia da ricostruire un Regno Unito da ricostruire e così via e tutti avevano bisogno di mettere un punto e andare a capo perché se se dovevano ammettere no in effetti Hitler è scappato e mo come si fa? La guerra si continua e quindi non può non si può andare a capo. Gli americani che sono gli unici diciamo che non avevano nulla da ricostruire perché il suolo americano non è stato toccato nel scorso della seconda guerra mondiale invece avevano un altro interesse perché sono loro che hanno fatto scappare Hitler quindi non potevano andare a dire sì in effetti è vivo perché se l'avessero catturato cosa che gli americani non volevano assolutamente sarebbe emerso il fatto che la potenza alleata per eccellenza cioè quella che tutti dicono ah grazie a loro abbiamo vinto la guerra in realtà sono quelli che hanno aiutato i nazisti a scappare. Ecco che motivo avevano gli americani a salvaguardare l'elite nazista? Alcuni di loro poi si sono rifatti una carriera proprio dentro gli apparati americani nel secondo dopoguerra. C'è stato sempre un filo sotterraneo fra il deep state statunitense e la gerarchia nazista oppure all'improvviso sono nate delle cointeressenze inaspettate? Allora gli americani hanno tanti motivi. Motivo numero uno attraverso un'operazione si chiama Paperclip gli americani hanno fatto scappare dall'Europa buona parte degli scienziati nazisti che erano non solo i tecnici che hanno permesso la diciamo la produzione missilistica degli Stati Uniti, tutta l'aviazione supersonica, lo sviluppo delle varie bombe nucleari ma anche i medici, anche i medici perché non si tiene conto di una cosa visto che siamo in tema è una cosa molto attuale. Allora gli medici nazisti grazie ai medici nazisti e ai loro esperimenti sugli esseri umani che hanno fatto nei campi di concentramento la medicina dopo la seconda guerra mondiale aveva fatto un balzo in avanti gigantesco perché si era potuto fare quello che non si era fatto mai fino a quel momento cioè esperimenti sugli esseri umani e quindi c'era anche quell'aspetto lì poi c'era l'aspetto politico il quello che poi sarebbe diventato fondatore e il più potente capo della CIA della storia era un nazista era amico di tutti quanti i gerarchi nazisti i principali cartelli delle multinazionali americane non lo so dalla General Motors alla Ford le principali società finanziarie e banche gruppi oppure fondazioni come la fondazione Rockefeller e così via erano coloro che avevano messo Hitler al loro posto cioè Hitler è diventato cancelliere grazie soprattutto agli enormi finanziamenti da parte degli Stati Uniti d'America finanziamenti che sono continuati tranquillamente durante tutto il regime e anche cosa assurda dopo lo scoppio la seconda guerra mondiale cioè loro finanziavano le industrie che costruivano le pallottole che sparavano ai soldati americani diciamo questo che si chiama alto tradimento è evidente che tutto questo non poteva emergere in più l'ultimo motivo gli americani avevano bisogno dei nazisti in funzione della guerra fredda cioè in funzione della guerra contro i comunisti e le avevano fatti scappare soprattutto per questo motivo e quindi sarebbe venuta meno la loro forza d'impatto nel dopoguerra e questo ovviamente non potevano permetterselo ecco prima hai fatto un parallelismo interessante hai detto avevano interesse a trovare Hitler morto perché la guerra finisce con la morte di Hitler così come Al-Qaeda finisce con la morte di Billadena ma anche sulla morte di Billadena leggiano tanti misteri sembra che l'abbiano buttato da un aereo in corsa insomma ma alla fine queste storie inverosimili su Billadena così come su Hitler dimostrano soltanto che non si può dire tutta la verità rispetto a questi personaggi cioè che sono personaggi tutto sommato che in maniera più o meno consapevole recitano un ruolo a beneficio dei padroni e spariscono di scena quando non servono più però su base suggestiva non razionale chi può credere che questi hanno aperto un portellone e hanno lanciato il cadavere sì sì ma esattamente questi personaggi non devono parlare cioè devono parlare finché c'è bisogno che recitano la loro parte io adesso non so quanti dei spettatori abbiano visto i film della Marvel ma c'è uno dei tanti film di Iron Man in cui c'è un cattivo che minaccia il mondo di distruggere tutto e poi si scopre che questo cattivo era un attore è un attore diciamo messo un po' male che era stato ingaggiato da uno in questo caso qui veramente cattivo che voleva diciamo usare questo attore come come stato stato bilater per fare proclami e così via e questo qui ovviamente non deve sopravvivere cioè l'attore non deve sopravvivere che non deve raccontare le cose hitler non doveva essere processato perché se fosse stato messo sotto processo avrebbe raccontato cose che non si potevano ascoltare bilater non doveva essere processato perché se fosse stato messo sotto processo avrebbe potuto raccontare cose che non si potevano raccontare la stessa cosa al bagdadi quindi questi personaggi la stessa cosa vale per mussolini franco la stessa cosa vale per mussolini ma mussolini è stato catturato non si capisce perché non sia stato quantomeno processato poi al di là che io sono contrario la pena di morte ma questa è un'altra questione ma comunque sia si sarebbe dovuto celebrare un processo io credo che tutte le vittime del fascismo a partire da matteotti ma tu e altre centinaia se non migliaia di persone con preso le persone sono andate in guerra le persone deportate dopo le leggi razziali avessero diritto di poter far sì che si celebrasse un processo a mussolini invece è stato preso ed è stato fatto fuori letteralmente come è stato fatto fuori ci sono persone che evidentemente molto molto evidentemente mi pare logico a siano portatrici di segreti inconfessabili e queste persone devono essere fatte fuori come è successo a calvi per il banca ambrosiano potete continuare ovviamente sono situazioni molto diverse da di loro ma alcuni non devono sopravvivere molto semplicemente a proposito della storia nazista c'è un libro interessante scritto da schacht ministro delle finanze del fuhrer tra l'altro ebreo e massone si chiama la magia del denaro questo libro dove lui praticamente spiega che aveva tentato di trovare una via d'uscita incruenta per i suoi amici ebrei che però questa questa ipotesi di creare un cordone internazionale di salvezza per gli ebrei tedeschi fu poi bloccato dal rabbino capo di londra chaim weizmann ecco tu conoscevi questa ricostruzione questa testimonianza di schacht no non conoscevo questa testimonianza di schacht ma ti stupisce dico questa ipotesi non lo so cioè fermo restando che un'ipotesi non ho la più palidea se sia vero oppure no quello che mi stupisce e che schacht racconti una cosa del genere quando lo stesso schacht è stato diciamo autore perché lui ha partecipato alle riunioni che hanno deciso la piega diciamo antisemita del nazismo la persecuzione ebrei quindi cioè partecipa a una cosa del genere dopodiché è diciamo è uno dei principali artefici del nazismo di quello che poi è stato e di come è proseguito fino alla fine della guerra e poi va a dire di sì ma in effetti non sono antisemita e non so per carità tutto è possibile però mi sembra una sorta di di scusa di tentativo di passare per per quello che non si è perché la dopodiché la storia potrebbe essere vera non ne ho la più palidea ecco però è di fatto che diciamo è finita solo non l'hanno ucciso al processo di norimberga ecco l'ha fatta franca schacht sì certo che l'ha fatta franca perché schacht era uno degli uomini di raccordo tra gli stati uniti e la germania ma certo che l'ha fatta franca cioè schacht era un nodo principale allora le grandi multinazionali americane hanno fatto valanghe di soldi nemmeno potete immaginarvi grazie al nazismo e i grandi complessi industriali tedeschi peraltro non bombardati apposta durante la guerra non è stato un caso il fatto che questi complessi industriali non siano stati bombardati erano di proprietà degli americani ed erano di proprietà degli americani grazie anche a schacht quindi schacht doveva in qualche modo lui è stato zitto e in cambio ha avuto la la libertà non solo era colui che conosceva tutti quanti questi meccanismi quindi ha continuato bellamente a gestirli gli americani comunque hanno bisogno di qualcuno così quindi nel processo di orimberga non è che andava tutto liscio il processo di orimberga c'era una posizione sovietici una posizione degli inglesi e una posizione degli americani che erano tre posizioni diverse tra di loro e quelli che erano per diciamo assolvere praticamente tutti erano gli americani e oltre questo tuo libro è la prosecuzione di un altro lavoro ecco facciamolo è l'antefatto più che la prosecuzione ecco insomma facciamolo vedere perché poi si questo questo è un'altra questa è un'altra cosa andiamo a quello prima ancora eccolo qui quarto rai che sono più potenti che mai condizionano le vite del tutto il pianeta inchiesta sull'internazionale nera dopodiché hai realizzato tu anche delle interviste franco ad alcuni personaggi abbiamo visto ad esempio che hai ci hai proposto un'intervista a fiore e un'altra se non sbaglio a licio gelli vuoi spiegare a chi ci ascolta tutto il pacchetto insomma che quadro dipinge perché è importante mettere insieme i puntini per avere un quadro d'insieme cosa c'è in questo lavoro d'inchiesta che tu hai fatto allora è importante perché questi tre personaggi gelli delle chiaie e fiore rappresentano in tre stadi di come si è evoluto potrei dire più che il fascismo il nazismo diciamo un fascismo molto tendente al nazismo gelli è stato l'uomo perché come dicevo prima la trattativa tra americani e tedeschi è stato la parte più diciamo più importante più interessante la storia perché in quella trattativa si sono poste le basi per il mondo post bellico le basi della guerra fredda le basi di tutto quello che noi conosciamo gladio compresa gladio è nata nel corso di quelle trattative allora mussolini ovviamente non voleva essere lasciato fuori e ha mandato un suo uomo a partecipare a queste trattative e questo suo uomo si chiamava licio gelli e da lì viene il potere di licio gelli perché ha passato due anni a fianco non solo dei vertici del reich che poi saranno i vertici di odessa cioè dell'internazione nera ma anche due anni ha lavorato a fianco di colui che avrebbe fondato la scia e poi ne sarebbe divenuto il più potente direttore da lì viene il suo potere e gelli è il primo diciamo esemplare fascista e nazista post fascismo nazismo che diciamo inizia a traghettare l'ideologia inizia a traghettare il sistema il sistema odessa il sistema che era stato stabilito che doveva proseguire dopo la guerra fredda diciamo la prosecuzione del reich il quarto reich delle chiaie e l'allievo rigelli delle chiaie è il più importante fascista del del dopoguerra nel mondo delle chiaie non solo l'uomo che è entrato in tutte le vicende delle stragi italiane ma delle chiaie è l'uomo che ha avuto a che fare con con pinosce con la dittatura in cile con la dittatura in argentina con la dittatura e pare che abbia avuto a che fare anche con l'andrangheta perché durante i preparativi del golpe borghese sembra che sia venuto qui in una riunione in aspromonte per parlare con i capicosca più importanti del tempo dell'andrangheta per avere diciamo sostegno sul sul territorio ecco una storia di raccordo che riguarda anche la la p2 possiamo dire quindi che alla fine l'endrine le cosche più importanti della mafia calabrese ma forse anche di quella siciliana sono elementi finali diciamo di un mondo di intelligence angloamericano ehi franco franco saltate la linea e mi sentito che cosa ti ripeto la domanda l'hai sentita no non ho sentita ti dicevo alla base di queste sulla base di queste consapevolezze è possibile immaginare i capi delle principali cosche calabresi o siciliane come elementi finali di una rete di potere tutto sommato sopra gestita dall'intelligence angloamericana per il tramite anche delle massonerie e delle versioni nera è esattamente quello che è la che è successo dal dopoguerra fino a oggi ci sono tre elementi anzi quattro elementi che in qualche modo agiscono nello stesso ambiente il primo è l'intelligence statunitense e di di diciamo di conseguenza quella italiana perché è una sorta di servitù dell'intelligence statunitense poi le mafie tutte quante le mafie ovviamente l'andrangheta è la mafia più importante quindi più delle altre ma anche cosa nostra l'internazionale nera e quindi l'intera rete di cui gladio è un'espressione gladio è una diciamo una propagine di questa internazione nera e poi la massoneria che fa un po da collante a tutto quanto questo tutto questo è partito nel 1943 con lo sbarco in sicilia da parte degli angoli americani lì è partito diciamo questo meccanismo e non si è mai tra l'altro agevolato da un noto mafioso come laghi luciano che era stato fatto uscire ad hoc esattamente e non si è mai fermato cioè oggi quel sistema è ancora in vigore la parte della trattativa stato mafia che di cui tanto si parla di cui si fanno i processi in realtà è stata una piccola parentesi di questa lunghissimo sistema borsellino e ha capito il sistema per questo è stato fatto fuori nel senso che c'è una una specie di sistema che non va smantellato è un sistema che va molto oltre l'italia è qualcosa che invece ha a che fare con adesso userei una parola grande la gestione del mondo comunque con tutto quello che riguarda la politica esteroamericana la gestione della politica esteroamericana a che fare con la guerra in afghanistan e a che fare con tantissime altre cose insomma ecco magari a che fare anche con l'MI6 visto che tanti di quegli uomini che hanno depistato le inchieste a partire dalla barbera erano uomini che poi spesso diciamo avevano strani collegamenti con l'intelligence anglosassone un pentito di carlo disse che andarono a trovarlo in un carcere inglese per chiedergli aiuto per fare fuori falcone però è morto nessuno ha mai approfondito bene questa vicenda evidentemente interessava meno di altre cose senti franco andando verso le conclusioni di questa nostra intervista abbiamo delineato un quadro preciso e dentro questo quadro tu proponi anche un'intervista con fiore fiore adesso in galera insieme a un altro suo compagno di partito forse loro compagni non si chiamano camerata di partito che si sono resi protagonisti di un tentativo di cavalcare negli ultimi mesi il malcontento intorno alle misure dittatoriali come il green pass e il super green pass di fatto sono stati prima tollerati in un certo senso anche protetti riconosciuti come interlocutori perché in tutte le piazze c'erano i giornalisti di repubblica del mainstream che andavano lì a fare foto a dedicare interviste a questi qui come se fossero dei grandi statisti quindi cercavano di legittimarli come interlocutori a un certo punto il biminale li scorta di fronte alla sede della cgl li fanno entrare dopo li arrestano e buttano la chiave io l'avevo anticipato a luglio a questi galantuomini che erano venuti alcuni di questi a minacciare anche me a piazza del popolo e se guardate che questi amici vostri dagli servizi vi stanno tutelando ma appena non gli servite più vi buttano dentro e se parlate tanto magari vi offrono un caffè alla sindona è andata così secondo te sono maschere utilizzate dal biminale queste di forza nuova magari anche a loro insaputa allora diciamo che tu hai riassunto in maniera un po pittoresca esattamente la situazione come è avvenuta e esattamente pittoresca ma realistico pittoresca ma non realisti pittoresca molto realistica è il motivo per cui ho messo l'intervista di fiore insieme alle altre interviste ovviamente per chi fosse interessato perché fiore è il terzo step di questa cosa cioè abbiamo il nazismo e il fascismo e tutto quanto il resto gelli è il primo passo delle chiaie il secondo e fiore è la prosecuzione ideale delle chiaie e rappresenta in qualche modo questo filone rappresenta odessa e rappresenta i legami che si hanno con in qualche modo con con il sistema atlantico con con questo sistema che va portato avanti per vicacemente il forza nuova ovviamente non ho le prove su questo quindi è una mia interpretazione rappresenta quello che hanno rappresentato i black bloc nel 2001 a genova cioè le persone gli uomini neri che venivano la cui presenza permetteva alle forze dell'ordine di sopprimere di reprimere scusate non sopprimere di reprimere i manifestanti pacifici che invece stanno facendo un'opera meritoria e la differenza rispetto ai black bloc che erano degli uomini neri nel vero senza parola anche incappucciati invece forza nuova che sono neri andavano invece palesati cioè se si fosse presentati incappucciati non sarebbe funzionato nello stesso modo ci sono invece palesati perché il fascismo il nazismo rappresenta esattamente l'uomo nero di oggi non a caso dopo l'apparizione di forza nuova indipendente se forza nuova avesse fatto qualche cosa o meno non ha nessuna importanza peraltro non hanno ancora fatto l'operazione cgl e tutto quanto il resto i giornali i media hanno incominciato a mettere sullo stesso piano fascisti e coloro che erano contro il green pass quindi se tu sei contro il green pass sei fascista ed è un'operazione proprio classica è un'operazione classica che va a colpire chi va a colpire quell'enorme popolo della sinistra che è stato alienato a coloro che sono contro il green pass perché c'è una parte cioè ci saranno quanto 80 e 20 ma c'è una parte un 30 40 per cento di persone che sono borderline cioè persone che non sanno esattamente come come schierarsi si schierano per il green pass semplicemente perché si dice che bisogna schierarsi con il green pass ma che sono molte di queste sono storicamente persone che si riferiscono alla sinistra allora piaccia o non piaccia ma in italia dal dopoguerra oggi i rompiscatole cioè quelli che scendevano in piazza e protestavano i sindacati e così era diciamo il popolo della sinistra se tu riesci a fare un'operazione non i partiti sto parlando del popolo della sinistra se tu riesci a fare un'operazione in cui separi nettamente quel popolo da chi ti dà fastidio hai emarginato le persone cioè hai tolto la massa alla piazza ed è esattamente quello che è stato fatto perché è apparsa forza nuova e perché hanno attaccato la cgl che sono due elementi simbolici che hanno alienato la massa dalla piazza senti perché le hanno mollate a un certo punto non servivano più hanno fatto quello che devono fare e poi era stato talmente clamoroso quello che hanno fatto che non potevano non fare nulla quindi i moli terranno non so in prigione per un po' di tempo poi usciranno come hanno sempre fatto e tutto si risolverà nel nulla insomma io credo che alla fine andrà a finire così secondo te questo filo che lega apparati deviati del viminale massonerie andrangheta è ancora in piedi ancora attivo adesso e sta cercando di infiltrare le proteste esattamente esattamente non è mai mai venuto meno quello che quello ripeto quello che ho detto prima dal 43 a oggi questo il filo è sempre rimasto integro non è mai stato intaccato ed è ancora pienamente funzionante e la oggi la criminalità organizzata l'andrangheta in particolare ma anche cosa nostra continua ad avere un legame strettissimo con il potere statunitense con la massoneria la massoneria fatacollante e con l'estrema destra in questo senso la morgese non prende messina denaro perché è più un agente diciamo di quest'area che non un capomapo messina denaro si poteva catturare da un sacco di tempo e non è stato catturato esattamente come è stato catturato per tantissimo tempo provenzano non è stato catturato da torrina si sapeva benissimo dove stava provenzano si sapeva benissimo dove stava torrina non c'è bisogno di un mafioso latitante altrimenti è un problema cioè altrimenti è finita la mafia non può essere quindi messina denaro è funzionale a tutto quanto questo oltre al fatto che sa tante di quelle cose che butterebbe giù diciamo il viminale ma anche il la casa bianca insomma se parlasse quindi ci sono cose che non sta bene dove sta messina denaro non deve essere catturato non deve essere catturato e se chi ci prova viene diciamo finisce nei guai è successo al colonnello riccio per esempio che veramente un eroe tra i servitori dello stato mi pare che gestiva anche ilardo il colonnello riccio se non ricordo male che ha fatto una brutta fine stranamente esattamente quando ilardo a un certo punto si è trovato nella stessa stanza insieme al colonnello mori e ilardo dice a mori guardando lì in faccia dice siete voi che avete ucciso falcone borsellino indicando proprio guardando lì in faccia dopo di che però guarda su sul generale mori ora dico io mi sono fatto un'idea studiando queste io ho l'impressione che alla fine si sia concentrato tutto il mainstream sulla figura del generale mori che è finito dentro tante cose è stato tirato in ballo su tante questioni però poi le impronte vere lì su quella stagione le ha lasciato un'altra ala dei servizi che è quella di la barbera de sena che però non viene mai citata non viene mai nominato non viene mai tirato in ballo cioè io ho l'impressione alla fine la figura del generale mori sia sia servito un po ad alcuni poteri per dipingerlo come la quintessenza diciamo i certi apparati ambigui e lasciare poi liberi intonsi tutti gli altri questa è una mia impressione può essere ma ti assicuro il generale mori ha molto a che fare con queste cose come ha molto a che fare il procuratore di calta nissetta di neve esattamente che ha depistato e che si avvaleva della contrada altro uomo dei servizi che non poteva indagare tutte le indagini cioè se non si sono ancora scoperti colpevoli e colpa principalmente di tinebra ma non solamente di neve ma di una serie di persone mori però ad esempio mori ha lavorato sul dossier mafia appalti sul quale borsellino credeva e che è stato poi nascosto per non dire come dire insabbiato per cui magari insomma è una figura che ha tante spaccettature però vorrei dire non è che se uno lavora fa parte di questa di questo sistema non combatta la mafia perché non è sennò sarebbe una cosa clamorosa non va intaccato il sistema cioè mori entra in azione nel momento in cui il sistema viene messo in pericolo mori c'è a dire una cosa su mori mori era un estremista di destra c'è mori amico di fredda e amico di fredda c'è colui che ha messo la bomba piazza fontana mori frequenta questo genere frequentava questo genere di persone e la barbera era esattamente lo stesso tipo di personaggio bene senti franco quindi tu dici questa questa centrale non è affatto smantellata esiste ancora secondo te se dovessero proseguire le proteste visto che ormai è chiaro che ci sono 7 8 milioni di italiani che resistono di fronte a questa violenza di stato non si vogliono vaccinare non si vogliono arrendere ora li stanno discriminando li stanno colpendo nel lavoro stanno cercando di demonizzarli in continuazione però alla fine se questi resistono un movimento di popolo che rimane in piedi magari lo stato potrebbe servire pure qualche mafioso in libera uscita che se del caso insomma prova ad avviare una soluzione finale contro questo tipo di mondo ecco si può leggere anche in questa ottica un ritrovato garantismo ecco di alcuni nostri apparati cioè alla fine servono per gestire il territorio no se scoppiano proteste dappertutto con un po di capi mafi in giro magari per loro è più facile tenere l'ordine pubblico no non credo io credo che vanno più demonizzati che controllati quindi non non useranno secondo te le mafie per sopprimere il movimento no green pass non fa parte la loro strategia caso mai per demonizzarlo a quindi diciamo per infiltrarlo e demonizzarlo ma non per usarli come cani da guardia interessante bene facciamo rivedere in conclusione il lavoro di franco eccolo qui hitler 1945 in questo libro franco dimostra che la versione ufficiale ecco tanto per cambiare palesemente falsa per chi volete se vuoi fare un riepilogo generale di tutto il pacchetto così li facciamo vedere in sovrimpressione e chiudiamo prego franco allora insieme al hitler 1945 per chi fosse interessato potrebbe prendere diciamo la prosecuzione di questo libro ideale la prosecuzione di questo libro è quarto reich potrebbe prendere un altro libro che si intitola hitler uccidete quei tre che è la ricostruzione del tentativo da parte di hitler di assassinare nello stesso momento sia churchill che stalin che roosevelt che siano incontrati a teheran una teheran stile casablanca piena di spie nel 1943 hitler pensa risolvere la guerra cercando di ucciderli tutte e tre ed è un libro e anche se è un libro un saggio un saggio d'inchiesta è un una vera prova spy story e poi altre tre interviste che quelle di cui abbiamo parlato è un intervista di sorgeli un intervista a delle chiaie e un intervista a roberto fiore bene grazie franco ecco speriamo facciamo in tempo a chiudere il collegamento prima che tu finisci di stamparne un altro di lavoro sei uno dei intellettuali in assoluto più prolifici che conosco ecco ti faccio i complimenti a nome di tutta la redazione tra l'altro non si può dire che sei uno che sta con le mani ma che magari non si vedono le mani stai scrivendo mentre tra una pausa e l'altra ecco ce l'ha ecco non ha non sono macchiata di inchiostro grazie franco fra casa ciao bene cari amici di visione tv si conclude qui questo nostro ulteriore approfondimento vi ricordo che noi abbiamo bisogno di voi abbiamo bisogno del vostro sostegno economico ci potete aiutare con bonifico con paypal se vi va andate sul nostro sito www.visionetv.it alla sezione sostieni ci premete e indicate una cifra che potete riconoscerci mensilmente perché arrivando ad un numero importante di abbonati insomma di sostenitori fissi possiamo pianificare una strategia di crescita che metta in discussione la prevalenza del mainstream grazie a tutti voi una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.